La notte profonda, gelida sul parco. Alberi molto antichi, che hanno appena perso le foglie, sembrano supplicare il cielo con una richiesta indecifrabile, eppure vitale per la vegetazione. Un gruppo di trans fa la solita ronda. Camminano protette dalla boscaglia, sembrano parte di uno stesso organismo, cellule di uno stesso animale. Si muovono così, come fossero un branco. I clienti passano in auto, diminuiscono la velocità quando vedono il gruppo, e fra tutte le trans ne scelgono una che chiamano con un cenno. La prescelta risponde all'appello. Così è, notte dopo notte. Il parco Sarmiento si trova nel cuore della città, un grande polmone verde, con uno zoo e un parco divertimenti. Di notte si fa selvaggio. Le trans aspettano sotto i ramio, davanti alle auto, portano a passeggio il loro fascino nella tanna del lupo, davanti al monumento di Dante, la storica statua che dà il nome all'avenida. Ogni notte le trans riemergono da quell'inferno, di cui nessuno scrive per restituire la primavera al mondo. Benvenuti nella seconda puntata di Impietas. Oggi tratteremo un argomento decisamente più moderno rispetto a ieri. Ieri invito chi non l'ha fatto, o chi ci ha scoperti per questa puntata, a recuperare la puntata di ieri, che era appunto l'inizio di tutto, con una storia critica di Caravaggio accompagnata dal grandissimo Roberto Longhi. Oggi invece però trattiamo una tematica decisamente più contemporanea rispetto alla storia critica del Caravaggio, che è appunto il libro con cui si apriva questa puntata, che è Le cattive di Camilla Sosa Villada. Un romanzo, un romanzo di autofiction, abbastanza sconosciuto, devo dire. Se ne è parlato un po' quando è uscito l'anno scorso, perché è uscito, 2021 è uscito l'anno scorso, l'edizione che ho io in ebook su Kindle, penso sia l'unica in circolazione, almeno in traduzione italiana, che è edita da Sur, ed è un testo che almeno per me è stato strano. Strano nel senso come particolare. Nel senso che era una cosa che non mi sarei mai aspettato da un libro di questo genere. Quando ho cominciato a vedere le primissime sponsorizzazioni, ne avevano parlato anche diversi influencer, credo di averlo sentito da Fumetti Brutti. Una grandissima fumettista che vi consiglio tutti di seguire, perché è molto simpatica. E comunque, avevo visto parlarne Fumetti Brutti e altri influencer, di cui adesso non mi viene il nome, mi ricordo le storie di Fumetti, ma non mi viene il nome degli altri influencer che ne avevano parlato, mi perdoneranno eventualmente. Ed è un testo scritto da un'autrice trans che parla di una condizione sociale ben specifica, ossia quella di un gruppo di prostitute trans all'interno della città di Cordoba, in Argentina. Ed è un testo incredibile. Incredibile, nonostante abbia i suoi difetti, ne ha. Ci ho messo, direi, praticamente un anno a leggerlo, nonostante non sia un libro particolarmente lungo, perché l'ho iniziato, l'ho continuato, l'ho pausato per tanti mesi, con questo è stato deciso di riprenderlo e la settimana scorsa l'ho finito, approfittato del fatto di essere al mare per terminare Le Cattive di Camilla Sosa Villada. E io ve l'ho presentato così come un testo che parla di un gruppo di prostitute quasi tutte trans, perché c'è una prostituta cissa all'interno di questo gruppo, comunque. Ve l'ho presentato come un gruppo quasi, cioè come un libro che parla di una situazione come quella delle prostitute trans in Argentina, in un paese che, per quanto sia comunque un paese che non è particolarmente arretrato, diciamo che culturalmente noi in Italia non dovremmo dire niente, perché dopo che è stata bocciata la ZAN pure noi in Italia siamo veramente uno spaccato di barbarie. però devo dire che è un paese decisamente indietro dal punto di vista dei diritti civili, per cui possiamo solo immaginare come siano trattate le persone trans all'interno di paesi come quello, basti solo il fatto che in paesi come quello le persone trans spesso hanno una sola via di vita, che è la prostituzione, ovviamente non per scelta, per costrizione, ed è esattamente quello che questo libro vuole raccontare, cioè il vivere in un mondo che non ti vuole, il vivere in un mondo che cerca sempre di buttarti fuori, di eliminarti, di ucciderti, che ti costringe ad utilizzare il tuo corpo come unico mezzo di sostentamento, esponendoti a dei rischi allucinanti, terribili. Infatti il testo è dato di un linguaggio incredibilmente crudo nel definire la realtà di questo contesto di persone. Ho fatto qualche ricerca sull'autrice e questo è un romanzo di autofiction, ossia la protagonista, che è appunto una ragazza trans di questo gruppo, è un alter ego di Camilla, ma non è una ripresa letterale della storia di Camilla, però si vede il fatto che sia scritto da un'autrice trans, perché non so se l'ho detto, ma anche Camilla Sosa Villada è una scrittrice trans. E all'interno di quest'opera noi vediamo tutto il punto di vista incredibilmente personale e coinvolgente di questa autrice. Autrice che, come hai detto, descrive questa realtà con una crudezza che citando la puntata di ieri è analoga a quella che potrebbe riservare un courbet all'interno delle sue opere. Bene, ma perché io vi sto parlando di questo libro? Avrei potuto parlarvi di un sacco di altre cose, perché io oggi mi ho detto, boh, gli parlo delle cattive della villada. Perché questo libro contrappone due cose. Contrapone, sì, tutta la violenza che il mondo riserva alle protagoniste, al gruppo di persone, ma ha un controbilanciamento molto grosso, ossia ci insegna il senso della comunità, ci insegna che cos'è una comunità. Infatti, la narrazione di questo testo possiamo dire che salta analizzando tre cose diverse. La prima è la vita fuori, la vita nel mondo che uccide le persone trans, che le margina, che distrugge i loro luoghi di lavoro, che le costringe a fare la vita che fanno, e che cerchi in ogni modo di eliminarle dall'ambiente in cui vivono. Il mondo cattivo che è l'apoteosi, appunto, della crudeltà. E poi abbiamo il secondo aspetto, che è la comunità, il gruppo delle persone. Il gruppo di ragazze, infatti, vive a metà tra il parco sarmiento, ossia il luogo in cui le ragazze svolgono la propria professione di prostitute, sia la pensione della zia in carne. Chi è la zia in carne? La zia in carne è un personaggio fondamentale attorno a cui si articolerà tutta la storia del romanzo. Infatti, i due personaggi sempre presenti saranno la protagonista, alter ego della scrittrice, e la zia in carne. Chi è la zia in carne? La zia in carne è è la trans più anziana, è la mamma dell'intero gruppo di prostitute del parco sarmiento. È colei che ha creato la comunità, ha creato questo gruppo di unione, questa casa protettiva che difende le ragazze dal mondo esterno, dal mondo che le vuole morte. Ecco perché abbiamo questa contrapposizione continua tra l'interno e l'esterno, tra la casa della zia in carne e tra il mondo esterno, il mondo che vuole morte le ragazze. E qual è invece il terzo punto di vista? Che, a parer mio, è forse quello più bello. Quello più bello, ma anche quello che fa più male. Che è il flashback. Il flashback della vita della protagonista. Cioè, quando lei viveva a casa con i suoi genitori, quando lei comincia a sperimentare la sua vita da persona trans, comincia a vivere come una ragazza, tutte le avversità che il mondo comincia a riservarle. Scusate la... inceppo. Il momento in cui il mondo si capovolge e dal volerti comincia al volerti morta. E... è la parte più struggente di tutte, la parte più cattiva. Cattiva nel senso che ti... comincia a picchiarti nello stomaco ed è un po' collegata a... tornando indietro, al discorso della comunità perché nelle parti di analisi della comunità vengono analizzate tutte le ragazze che fanno parte di questa comunità. E c'è di tutto. C'è di tutto. Ci sono... c'è una... una ragazza trans muta, ad esempio, che comunica solo in... in lingua dei segni. C'è... c'è la maci che è la strega, quella che fa gli incantesimi, che diventa poi veramente importante per l'arco finale. C'è... ci sono le sorelle corvo che sono queste due ragazzine privilegiate che vivono la loro vita come due ragazzi tutti nababbi e snob dell'alta società argentina e che poi di notte usano il loro corpo esattamente come le altre ragazze del parco ma per scelta, per divertimento. Di nuovo, in questo... in questo testo la lotta di classe è onnipresente. Il fatto che la lotta non sia soltanto perpetrata dalla società contro le persone trans ma dalla società contro le persone trans in quanto ultime, in quanto ultimo tassello della società in quanto povere, in quanto costretta a fare quel tipo di vita e quindi la distinzione di una sorta di privilegio tra chi è costretto a usare il proprio corpo per vivere e chi invece lo fa per scelta, per divertimento. È una narrazione spietata che inizierà a picchiare lo stomaco a ogni pagina ma che vi farà sentire anche molto a casa perché le parti in cui viene descritta la comunità, il mondo, la vita di queste persone, la casa della zia Incarna è di una meraviglia incredibile. E il romanzo stesso nasce, cioè inizia, scusate, con il ritrovamento da parte del gruppo delle ragazze di un bambino, un bambino abbandonato nel parco. Questo è il primissimo capitolo, dopo la descrizione che vi ho fatto, parlano del ritrovamento di questo bambino che viene nominato con un nome che, ve lo dico, faccio questo piccolo spoiler perché è un nome veramente curioso, viene chiamato Lo Splendore degli Occhi con l'articolo, eh. Lo Splendore degli Occhi con l'articolo, cioè proprio così, che viene adottato dalla zia Incarna. La zia Incarna, giustamente, è la mamma del gruppo. E la narrazione intera segue il gruppo con la crescita di questo bambino. Il bambino che cresce nel gruppo, cresciuto dalla dalla zia Incarna. E il bambino che comincerà poi ad andare a scuola, a vedere il mondo attorno a lui, che comincerà a crescere venendo da questo luogo. bellissimo, 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 bellissimo. Quasi un romanzo di formazione dentro un romanzo che descrive una problematica sociale enorme e riesce ad insegnarci tranquillamente che cos'è una comunità. Perché questa, alla fine, è la morale che volevo dare alla puntata di oggi. Ossia il fatto che le cattive ci insegna il senso della comunità. La comunità, come casa, la comunità, come insieme di persone che vogliono, che ti vogliono bene, che ti proteggono dal mondo fuori, nel momento in cui il mondo fuori ti vuole eliminare. Per questo che consiglio a tutti di recuperare questo meraviglioso testo, questo meraviglioso romanzo della mitica Camilla Sosa Villata che è ufficialmente aggiunta all'interno degli autori di cui voglio leggere altro, voglio apprendere di più da questa persona, farò qualche ricerca eventualmente, ma questo credo sia, quando avevo cercato qualcosa, credo che questo sia il suo primissimo romanzo. In ogni caso, tanto hype per i prossimi che scriverà. tra l'altro, piccola nota alla fine della puntata, questo romanzo è incredibilmente difficile da leggere, nel senso, perché è incredibilmente difficile da leggere? Lo aggiungo così alla fine, perché uno dei motivi per cui l'ho spesso interrotto, ripreso, interrotto, ripreso, è che ha delle caratteristiche di narrazione che a noi lettori europei suonano troppo, troppo, troppo strane. Le scene della comunità, le più belle, quelle che vi ho descritto come le più belle, il motivo per cui dovete leggere questo libro, eccetera, eccetera, sono scritte in un modo che, non voglio dire, cioè non è neanche descrivibile, sono scritte in un modo incredibilmente strano, come se fossimo quasi sotto effetto di droghe nel leggerle, non so come spiegarlo bene, leggetelo e ditemi cosa ne pensate, nulla. E tra l'altro ci sono dei bellissimi elementi di realismo magico, che era una cosa che non sapevo che cosa fosse prima di leggere questo testo, gli episodi di realismo magico mi hanno lasciato talmente tanto il punto interrogativo che sono andato a cercare delle info e non vi spoilerò nulla, comunque il realismo magico sarebbe l'inserimento di pratiche magiche all'interno del mondo reale, come se voi leggeste un testo di un realismo crudo dall'inizio alla fine e poi ci sono degli elementi magici che sono perfettamente plausibili e reali. Questo è il realismo magico ed è una cosa che non avevo mai visto, motivo per cui questo testo ci è distante da un punto di vista geografico e culturale, ma è anche il motivo per cui questo testo è così bello, perché ci fa scoprire un mondo nuovo, ci fa scoprire un mondo nuovo, ci fa scoprire il senso di comunità, comunità che è quello che voglio creare con Impietas, per cui invito tutti di seguire il podcast, andarlo a seguire ovunque, finora so che c'è su Spotify, Google Podcast e Amazon Podcast, non so se riuscirò a metterlo su Apple Podcast, vedrò, in ogni caso ve lo dico, e creerò anche il canale YouTube, così che si troverà anche su YouTube, eventualmente se l'ho già creato lo trovate nella descrizione del podcast, assieme al profilo Instagram e al gruppo Telegram, cui invito tutti ad entrare, perché, vi ripeto, l'obiettivo di Impietas è creare una comunità di discussione, esattamente come quella delle cattive, una comunità in cui invece di farci ammazzare dal mondo, ci ammazziamo tra di noi a suon di discussioni, per cui entrate, ditemi la vostra opinione e ci vediamo domani. Ciao!